buongiorno a tutti siamo qua davanti una pianta di ciliegio che tuttora in fase giovanile chiaro che la potatura di produzione è una cosa la potatura di allevamento barra formazione un altro per cui su questa pianta sono già stati fatti dei tagli in modo tale da formare il cosiddetto alberello va da sé che la pianta è già stata piantumata con questo tipo di branchi che sono già praticamente inserite in una parte alta e noi dobbiamo solamente gestire la chioma per quello che i tagli molto grossi non sono stati fatti sono stati fatti solamente delle torsioni e delle cimature all'occorrenza adesso possiamo vedere anche nell'aspetto della pianta come potremmo intervenire non solamente facendo dei tagli cosa che in questo caso qua va anche evitata ma facendo dei piccoli accorgimenti che qualcuno magari non prende in considerazione uno di questi è l'inclinazione delle branchette qui abbiamo la nostra branca primaria che sfoga verso l'esterno qui abbiamo le nostre branchette secondarie con tanto di mazzetti di maggio tutti ovviamente produttivi qui abbiamo una sottobranca che potrebbe essere piegata in questa maniera possiamo anche utilizzare all'occorrenza una corda per inclinarla tutte queste nozioni le potete trovare sul giornalino allora è solamente per simulare la cosa vi faccio vedere come si potrebbe inclinare una branca di questo genere qua e renderla più aperta prendiamo un capo e facciamo un nodo un doppio nodo nella parte terminale non è proprio un nodo da marinaio però ci serve per evitare che ci sia lo scorrimento no di conseguenza piegando questa branca qua e lo facciamo quando magari la linfa è in corso per cui primavera oppure se non abbiamo tempo e modo lo possiamo fare anche adesso ma con molta accorzezza per evitare che si scosci facciamo un lavoro di questo genere qui qui metteremo un picchetto e faremo un discorso di questo tipo l'aspetto cambia decisamente la branca assume una posizione orizzontale andrà in produzione ovviamente prima perché la linfa rallenta e migliora le gemme in modo tale da differenziali a frutto e non avremo questa imponenza all'interno cosa che bensì si nota da questa parte dove una branca principale questa ci è sfuggita ed ha assunto un aspetto decisamente vigoroso in questo caso è opportuno fare per esempio un taglio di ritorno comunque su una freccia laterale più matura per cui toglieremo questo ramo assurgente e nell'eventualità che abbiamo la possibilità di lavorare la pianta in seguito potremmo addirittura fare un taglio più basso per sviare la branca all'esterno da questa parte questi sono tagli un po più impegnativi ma quando ci vuole come si dice bisogna farlo mi accingo a togliere questo ramo che è concorrenziale e lo vado a tagliare in questa posizione c'è anche un altro modo per fare in modo che appunto che la branca si possa inclinare facendo delle seghettature alla base in modo tale che poi cedendo la branca si può aprire in questa situazione però è un po sfuggita per cui la terremo così com'è un'altra cosa importante da fare è distanziare i rami tra i loro qui sono stati fatti dei tagli già precedenti no ci sono stati fatti dei tagli durante l'estate tolti delle codominanze e tolti di succhioni all'interno ci sono delle branchette o delle branche tipo questa che potrebbero essere ulteriormente aperte e ne approfittiamo per usare un pezzo di legno così oppure una canna il cosiddetto divaricatore per simulare la cosa posso semplicemente fare una cosa di questo genere per vedere appunto come si può aprire un ramo certo che se questo è molto rigido difficilmente si aprirà e di conseguenza dovremmo fare una cosa tipo quella che abbiamo fatto prima comunque divaricando aprendo facendo delle torsioni o addirittura inclinando i rami facciamo in modo che la nostra pianta rimanga a nostra portata l'errore che non si deve fare è quello di cimare in maniera incondizionata perché l'emissione dal taglio dove si cima rispetto alla gemma fiore alla gemma legno crea affastellamenti sempre a legno adesso ci aggiriamo a vedere quali sono gli organoli produttivi della pianta di ciliegio abbiamo per esempio il mazzetto di maggio è un ramo corto una gemma legno provvisto di gemme a corona a fiore questo è un rametto produttivo che ogni anno aumenta di qualche centimetro anche se poi la qualità del frutto decresce abbiamo il brindillo un rametto di circa 20 centimetri una gemma piccale a legno e delle gemme a fiore sull'asse poi ci sono i cosiddetti rami misti sono rami un po più vigorosi potrebbe essere questo qui anche se non è molto maturo con le gemme sull'asse a fiore o a legno le gemme delle drupace sono gemme cosiddette differenziate esistono le gemme a fiore che fanno solo ovviamente il fiore gemme a legno che fanno germogli al contrario delle pomace dove abbiamo la presenza delle cosiddette gemme miste per cui tolti succhioni aprendo qualche ramo dove abbiamo visto che magari ci può stare sviarlo verso l'esterno il ciliegio non è una pianta da potare in maniera decisa questa pianta tra l'altro una pianta auto fertile una pianta che si feconda da sola per cui è molto importante anche nella scelta delle piante da frutto sapere quale varietà è più data al nostro giardino molto spesso nelle ciliegie abbiamo la cascola dei fiori non sempre è imputabile al tempo quant'altro semplicemente non sono state impollinate perché ci sono piante che sono autosterili con questo abbiamo terminato la nostra potatura io vi rimando alla prossimo video e vi saluto cordialmente